Nascere è la cosa più naturale e facile del mondo in molti paesi, non in tutti i paesi. In alcuni è veramente complicato, veramente complesso. Per fortuna c'è gente che pensa alle donne e ai bambini ed è Time to Love, una onlus, che sostiene il progetto Bumi Seat di Bali. Quindi l'unica cosa che vi chiedo nel mio piccolo è quello di sostenere, di aiutare, di stare vicino a Time to Love, perché significa stare vicino a donne e a bambini che non hanno i mezzi, gli strumenti, il denaro addirittura per nascere. Time to Love ha creato anche una grande serata, un concerto con tanti ospiti, cantanti, tutti presenti insieme per sostenere questa situazione. Time to Love, una onlus, lo ricordo, per aiutare donne e bambini che vogliono nascere e hanno il diritto di farlo. 10 settembre, Palabanco di Brescia, segnatevelo in agenda. Mi raccomando, è una seratona, ma di quelle veramente piene e ricche, dove vi divertirete e farete qualcosa di veramente utile. Time to Love, 10 settembre, Palabanco di Brescia. Io ci sarò.